Emir, il manipolatore senza scrupoli di Endless Love, ha deciso di distruggere il suo rivale Kemal colpendo dove fa più male. La sua pedina? La giovane Zeynep, sorella di Kemal che cade nella sua trappola, ignara Dei i suoi veri intenti. Dopo una notte di passione, Emir rivela la sua natura crudele, lasciando Zeynep in preda alla disperazione. Pronti a scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate di Endless Love? Emir ha in mente un piano machiavellico, corteggiare Zeynep, la giovane sorella di Kemal, non per amore, ma solo per infliggere una ferita profonda al suo rivale di sempre. Il suo obiettivo è chiaro, ferire Kemal nel modo più subdolo possibile. Emir inizia così a tessere la sua rete, avvicinandosi a Zeynep con parole dolci e sguardi ammalianti. Zeynep, sei diversa dalle altre, con te tutto è più semplice, più vero, le dice con un tono seducente. Zeynep, accecata dal fascino di Emir, si innamora perdutamente di lui, ignorando le sue reali intenzioni. Intanto Nihann, la moglie di Emir, scopre le sue macchinazioni e decide di intervenire. Preoccupata, affronta Zeynep per metterla in guardia. Zeynep, ascoltami bene. So che Emir ti sta corteggiando, ma non è per amore. Vuole solo distruggere Kemal. Ma Zeynep, difensiva e incredula, nega tutto. Non so di cosa stai parlando, Nihann. Emir e io non abbiamo una storia segreta. Nonostante i suoi avvertimenti, Zeynep si lascia trascinare sempre più nella trappola di Emir. Ogni giorno che passa, si innamora sempre di più, cadendo preda delle sue manipolazioni. Emir, consapevole dei severi genitori di Zeynep e del fratello Tariq, le propone di incontrarsi in segreto in una camera d'albergo. Prima, però, la invita al cinema, per conquistare la sua fiducia. Ma c'è un problema. I suoi genitori non le permetteranno mai di uscire la sera. Qui entra in gioco Asu. Zeynep confida ad Asu di essersi innamorata di un ragazzo, ma di non poterlo vedere a causa dei suoi genitori. Non mi lasciano nemmeno andare al cinema, si lamenta. Asu, ignara che il ragazzo misterioso sia Emir, le suggerisce di dire una bugia bianca. Zeynep racconta una bugia bianca. Di ai tuoi genitori che verrai al cinema con me, li convincerò io. Zeynep è entusiasta. Davvero? Oh, Asu, sei un'amica meravigliosa. La sera successiva, Asu accompagna Zeynep al cinema e la lascia poi libera di incontrare il suo amante segreto. Emir aspetta Zeynep in una camera d'albergo, pronto a sedurla e a sfruttare la sua ingenuità. Sei bellissima, Zeynep. Siamo fatti l'uno per l'altra, sussurra con astuzia. Emir, farò di tutto per stare con te, risponde Zeynep innamorata. Mentre Zeynep si abbandona all'illusione romantica, Emir pregusta il momento in cui userà Zeynep per colpire Kemal dove fa più male. Dopo una serata speciale al cinema, in cui Emir aveva sapientemente scelto un film romantico per ammorbidire le resistenze di Zeynep, la conduce in una lussuosa camera d'albergo. L'atmosfera è creata con cura. Luci soffuse, candele profumate e petali di rosa sparsi sul letto. Zeynep è un misto di emozioni contrastanti. Da un lato si sente fortunata a essere accanto all'uomo che ama, dall'altro il suo cuore batte forte per la paura dell'ignoto. Emir, con il suo sguardo magnetico e un sorriso affascinante, la prende per mano e la guida verso il centro della stanza. «Zeynep, stasera è solo per noi due. Voglio che tu ti senta al sicuro, con me», le dice con voce profonda, avvicinandosi al suo viso. Lei sorride timidamente, ma non può nascondere l'agitazione. «Emir, per me sarebbe la prima volta», confessa abbassando lo sguardo. Lui le solleva il mento con delicatezza, guardandola dritto negli occhi. «Non riesci a lasciarti andare nonostante tutte le promesse che ti ho fatto», la provoca, cercando di farla sentire in colpa. Le sue parole colpiscono il cuore di Zeynep come un pugnale, non vuole deluderlo, non vuole che pensi che lei non sia abbastanza per lui. In un momento di vulnerabilità cede alla sua corte lasciandosi avvolgere dall'abbraccio di Emir. La notte si riempie di passione. Emir la seduce con lusinghe e belle parole, facendola sentire unica e speciale. Zeynep si abbandona completamente a lui, certa che quell'amore sia reale e reciproco. Crede che quella notte rappresenti l'inizio di qualcosa di meraviglioso, un nuovo capitolo nella sua vita. Ma improvvisamente il sogno si spezza. Emir la guarda con freddezza, senza un briciolo della dolcezza delle ore precedenti, con tono gelido la scuote dalla sua illusione. L'unica cosa che volevo era divertirmi con te. Non significhi niente per me. Ora è meglio che tu vada perché l'ultima cosa di cui ho bisogno è averti al mio fianco. La tua presenza mi disturba molto più di quanto pensi. Zeynep sente il cuore spezzarsi in mille pezzi. L'uomo che pensava di amare la disprezza apertamente, riducendola a un giocattolo di cui sbarazzarsi senza rimorsi. Lacrime silenziose le rigano il volto mentre viene sbattuta fuori dalla stanza insieme ai suoi vestiti e rifugiandosi nel bagno dell'hotel. Sola e umiliata nel bagno, ripensa alle parole di Emir che riecheggiano nella sua mente. La sua fiducia e il suo cuore sono stati traditi, ma la ferita più grande è la consapevolezza di essere stata manipolata dall'uomo che credeva di amare. Intanto Emir sorseggia soddisfatto il suo caffè, gustando la sua vittoria. Ha spezzato il cuore di Zeynep e, indirettamente, ha ferito Kemal, realizzando così parte della sua vendetta. Ma Zeynep non è disposta a cedere così facilmente. Nonostante il dolore, sente crescere dentro di sé una determinazione inaspettata. Vuole dimostrare a Emir e al mondo intero che non è una ragazza debole e ingenua. Inizia a pianificare la sua rivincita, pronta a lottare per riprendersi la dignità e la fiducia in sé stessa. Ma l'umiliazione è solo all'inizio. Zeynep riceve una busta recapitata da un addetto dell'hotel. Aprendola, trova una somma di denaro notevole, accompagnata da un chiaro messaggio. Grazie per la serata. Spero che questi ti bastino. Zeynep sente il mondo sgretolarsi intorno a lei. Si sente sporca e tradita, come se il suo amore fosse stato ridotto a una transazione economica. L'uomo che credeva di amare le ha fatto capire, in modo inequivocabile, quanto poco significhi per lui. Sola e devastata, si rifugia in un angolo della città, incapace di tornare a casa. In quel momento Asu la chiama al telefono, preoccupata perché non si trova al cinema. Zeynep risponde con voce tremante, chiedendole di venirla a prendere. Asu arriva di corsa e trova Zeynep in lacrime, con il trucco sfatto e un'espressione di profonda disperazione. Senza esitazione la abbraccia stretta, cercando di consolarla. «Zeynep, cosa è successo? Dove sei stata?» le chiede con tono dolce, ma preoccupato. Zeynep, incapace di nascondere il dolore, scoppia in lacrime. «Non posso dirtelo, Asu, ma ho fatto un errore terribile», si inghiozza. Asu intuisce che la giovane ha vissuto qualcosa di molto brutto con quel misterioso ragazzo di cui le aveva parlato, «Sebbene Zeynep non le riveli il nome, Asu sa che deve esserci qualcuno dietro quel dolore e decide di indagare, decisa a scoprire chi sia stato a far soffrire così tanto Zeynep». La giovane non riesce a parlare del suo dolore, ma le lacrime e l'angoscia nei suoi occhi dicono tutto. Asu, determinata a proteggere Zeynep e a darle sostegno, promette che non lascerà che nessuno le faccia più del male. Ma Emir ha ottenuto ciò che voleva. Usando Zeynep come una pedina, ha gettato un'ombra sulla famiglia di Kemal. Ora il suo obiettivo successivo è chiaro, distruggere definitivamente il suo rivale. Nonostante il peso dell'umiliazione e del tradimento, Zeynep giura a se stessa che non lascerà che questa notte segni la fine del suo coraggio. Con Asu al suo fianco, cercherà di rialzarsi e trovare un modo per riprendersi da questo colpo. Ma riuscirà a superare il veleno delle parole di Emir e l'umiliazione di quella busta piena di soldi? Il giorno successivo, Asu si trova per caso vicino all'ingresso della palestra quando vede una scena che la lascia senza parole. Zeynep sta discutendo animatamente con Emir. La tensione è palpabile e Zeynep, visibilmente scossa, cerca di tenere testa a un Emir impassibile ma determinato. «Non puoi trattarmi così, Emir! Non sono una tua pedina!» urla Zeynep con la voce spezzata dalla rabbia e dal dolore. Ma Emir, con uno sguardo freddo e un sorriso sprezzante, replica senza pietà. «Davvero pensavi che io, Emir Kodzguoglu, potessi innamorarmi di una come te?» Successivamente Asu, dopo aver assistito in disparte alla scena, decide di affrontare Emir. «Fai schifo! Sei meschino! Come puoi usare Zeynep per i tuoi giochi sporchi?» lo accusa avvicinandosi minacciosamente. Emir non si scompone e mantiene il suo sguardo di sfida. Si avvicina a Asu con passo lento, la fissa negli occhi e ammette senza remore. «Ho fatto tutto questo solo per attaccare Kemal. Ultimamente ha superato un po' il limite, non credi?» L'arroganza di Emir è insopportabile per Asu che stringe i pugni con rabbia. Poi, con una calma fredda e una determinazione ferrea, gli sferra una risposta tagliente. «Non ti permetterò mai di fare del male a Kemal!» Emir sorride con sarcasmo. «E come pensi di fermarmi, Asu? Non dimenticare con chi hai a che fare!» Asu non distoglie lo sguardo, decisa a non lasciarsi intimidire. «Non sottovalutarmi, Emir. Hai già ferito abbastanza Zeynep con il tuo gioco crudele, ma non potrai mai spezzare Kemal. Emir la guarda con uno sguardo indagatore, come per misurare la sua risolutezza, poi annuisce leggermente e si allontana senza dire una parola. Da quel momento, Asu si impegna a proteggere Zeynep e a impedire a Emir di distruggere ulteriormente la sua vita. Ma la vendetta di Emir è solo all'inizio, e il suo obiettivo finale è ancora Kemal. Zeynep troverà la forza di rialzarsi e affrontare la verità? E Asu riuscirà a mantenere la promessa fatta a se stessa di proteggere Kemal e Zeynep dalle macchinazioni di Emir? Non perdetevi i prossimi sviluppi di questa avvincente storia di passione. Io sono Isabella, e se volete sapere cosa accadrà nei prossimi episodi, scrivete qui sotto «Sì, voglio sapere». Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e mettere un bel like al video.